AIAITA! LIBERAMI! LIBERAMI! PRADO DI PREVA! HAHAHA Ragazzi questo video è stra divertente Arriviamo a 20 mila like mi raccomando Molti di voi ragazzi hanno votato nello scorso video Di mettere sbrisarino All'interno di una teca di SCP come punizione Ed è quello che farò Oh si Dopo che mi ha fatto prendere tutti questi Tutti questi antidoti per dolcina Che me l'ha fatta ammalare poverina Adesso è giunto il momento ragazzi È giunto il momento si assolutamente si Vi faccio vedere io Allora Innanzitutto vi vado a dire a Dolcetta Dolcetta, ciao Ascoltami, praticamente Svriserino vedi che Come dire Ha fatto malare la nostra figlia Come ben sai E purtroppo mi sa che ha una malattia Che potrebbe non curarsi Sì, lo so, lo so Adesso stai scrivendo tipo Oh mio Dio no, che cosa sto dicendo E quindi Sì, 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 esattamente E io come punizione Sendo che praticamente l'ha fatta prendere questa malattia Svriserino, è colpa di Svriserino Io direi, anzi I miei fan dicono Che ascoltiamo sempre loro Che Svriserino deve prendere una punizione Ovvero quella Di stare in un'attecca di vetro Con un SCP per almeno 20 secondi Che ne dici? Che ne dici, dai Cioè nel senso onestamente Io devo fare comunque Che è proprio a priori Sicuro? Sì, sì, sì Assolutamente Andiamo da Svriserino Dove è Svriserino? Svriserino? Oh sì, c'è, c'è Ciao papà, che cosa c'è? Che stavi facendo? Alla stavo Stavo un attimo lavando i pietini Ah, ok Ascoltami Dobbiamo fare un gioco, va bene? Ok, che gioco? Allora, vieni a questa parte No, 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 no Sto scherzando Dobbiamo andare da questa parte Da qua, da qua Svriserino Entra qua dentro E scendi, va bene Oh, ma perché dobbiamo andare da questa parte? È per questo Svriserino dai Sei pronto? Sì, sono qua Ok, vieni qua Svriserino Sì, sono qua papà Ok, ah la card Hai la card Delcetto Dovresti averci le taglie È sempre a portata di mano Le card quelle rosse Eh, sì vai Papà, ma perché questo posto è così tanto segreto? Eh, no Ho fatto un po' Papà, no, no, no Non mi ricordo questo posto Questo posto degli SCP Perché vuoi fare un gioco qua dentro? Oh, cavolo Pensavo che se lo scordasse No, 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 no Non uscire Dai papà, apri quella cavolo di Traptor No, no, no Svriserino, guarda È un gioco divertente Apri qua, dolcetta Dolcetta Apri qua È un gioco davvero divertente Adesso ti faccio vedere io Ok, perfetto Ok, vieni qua No papà, non mi piace Dai, Svriserino È divertente Apri, apri, apri Dolcetta, apri Ok Da questa parte Vieni qua Svriserino Cos'è questo suono? Ah, la c'è stare E di SCP Ok, vai Perfetto Ok, no, qua non c'è niente Da questa parte Guarda qua, Svriserino Ma che cosa? Non vedo nulla Eh, lo so Perché è troppo alto per te Guarda, vieni da questa parte Vieni, vieni, vieni Qua sopra Ok Perfetto Ok Qua serve una card Dolcetta Hai la card? Eh No, non c'è qua Vi serve la card Dovreste avercela, Dolcetta? Ok, perfetto Entra, entra Svriserino Ah no Perché? Ok Qua dentro Perfetto Ok Adesso, Dolcetta Apri, apri là E Svriserino Entri, va bene? Oh, entrati con me? Sì, sì, sì Entriamo con te Va bene? Ok, va bene Ok, tre Ok, tre, due Uno Vai No, papà Aiuto, papà Ok, ok Mi sa che Ok, ora non Andiamo a l'aprire Papà, aiuto Perché l'hai fatto? Fatemi uscire Ah, poteva starci di più Svriserino Onestamente Ah, non voglio fare più questa giocca Non voglio farlo più Eh, Svriserino Ok, va bene No, perché l'hai fatto? Perché l'hai fatto una cosa simile? Perché? Perché Svriserino Hai fatto ammalare Dolcina E questa è come punizione tua No, basta Non voglio andarci più Oh, cavolo, Svriserino Hai lasciato il cellulare lì Basta Ma io non me lo sono portato il cellulare No, ce l'avevi in mano Oh, cavolo, hai ragione Oh, no, no Apri la porta Apri la porta Devo prendermi il cellulare Sì, sì, sì Vai, vai, vai Vai, vai Vai, bravo, bravo Facci pure tu, Docetta Certo, non entrarci Perché Ok, brava Vai, Spiserino, vai, 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 entra, entra Ok, ok, dov'è il cellulare? Ma, mamma, c'è il cellulare qua Ah, ti ha ingannato No, mamma, aiuto, liberami, liberami, liberati, prego No, Spiserino, no, questa è la tua munizione Ah, 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 sì No, mamma, mamma Ok, sì, va bene, dai, puoi aprirgli Ah, 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 ah Ah, va bene, ok, mi sono divertito parecchio adesso, va bene No, papà, io ti odio A posto, perfetto, possiamo andarcene via Ah, ottimo, perfetto Abbiamo finito, ti piace l'olio di Spiserino? La punizione divina, ah? Ti è piaciuta? No, col cavolo che mi è piaciuta, papà È stata una punizione bruttissima Sì, certo, logico che è stata una punizione bruttissima È quello che ti meriti, Spiserino Sì, ah, ah, certo, va bene, ok Ok, adesso dobbiamo sperare solamente che tua sorella non ci rimanga Perché? Perché semplicemente la sua malattia è una malattia rarissima, mi ha detto Noob E mi ha fatto prendere un sacco di cose bruttissime Come ad esempio dell'urina di strega Oppure della cacca di, 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 di maiale, di sense Quindi sai com'è Oh, che scifo Sì, lo so, lo so benissimo Che scifo pure, eh, lo so Ok, e ce ne siamo usciti Così almeno Spiserino rimane Eh, riesce a uscire Nel senso, in ogni caso, se non ci riesci Mettini in modo uno E via Dai, uscite Quindi è qua Sì, sono qua Ok, perfetto Saliamo e via Ok, però basta Papà, ti prego non farmi più quell'estero Quegli scorsi del cavolo Ma, vediamo, vediamo Vedremo se non farteli più Va bene, Spiserino Sì, appunto Sì, certo Pupà, davvero Ok, ancora Dolcina sarà a casa di Noob Poverina Poverina sotto, sotto Nella sua cantina da dottore Sciapolette Dov'è, Spiserino? Ma, entra Sarà qua Ok, va bene E inoltre E inoltre Non meno importante Ti tolgo il computer Ah No, 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 no E ti chiudo a chiave qua dentro No Ah Ah, papà Oh, no, è il computer mio Guarda qua che cosa, Spiserino Guarda nella finestra No, papà Ti uccido Ti uccido Ah, no, 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 no Non puoi neanche aprire le finestre Oh, cavolo Dall'altra parte Devo chiuderla Ok, perfetto Ah, Spiserino Era aperta Ah 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 Ahia Mi ha fatto male Questo È perché effettivamente Mi ha fatto quella punizione del cavolo E inoltre quello Sarà per Il computer Ah 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 Altri due coltellate li devo dare Perché sono due monitor in più Oh, sciavoletta Aspetta, c'è Lucky Ah, c'è Lucky Dov'è Lucky? Oh No, no, no Tutto il mio pappagallo no Tutto il mio pappagallo no Via Via Lucky, via Pericolo Pericolo Oh, no Correte 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 No, papà Sì, papà Spiserino Lasciami stare No, 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 no Adesso ti faccio vedere Adesso prendo quel cavolo di piccione E lo faccio fuori Oh, no, 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 no Oh, cavolo Questa punizione Questo video Dove essere la punizione di Spiserino Non la mia Cavolo Ok Qua Ok, stai qua dentro Va bene, poletto Perfetto Ok Ok, ok, chiudi tutto Chiudi tutto Quando gli passerà Via Ok Abbiamo fatto, dolcetta abbiamo fatto Abbiamo completato Perfetto Eh, nulla Ok Ragazzi, spero che il video vi è piaciuto È nulla Noi ci vediamo in un prossimo nuovissimo video Eh, nulla Buttate qua sotto Anzi, scrivete qua sotto nei commenti Se anche voi volete Che dolcina Mi manga Oh, sciopolette No Scusami Scusami un attimo Scusami un attimo Allora, sono Spiser Io Sto dietro appunto a Spiserino Nube Spiserino ovviamente Eh, sono io Nube Faccio io Spiserino E tutti i personaggi Insomma Trenne senso Trenne senso Comunque, a parte questo Volevo solamente informarti Eh, di seguirmi su Instagram Ti prego Seguimi su Instagram Che ho già Spiserino Trattino basso Guarda qua E qua E qua Guarda che carino Questo cavolo di nuovo Guarda Faccio così E si muove Ma ti rendi conto? Cioè, questa Questa sì che è editing È veramente bello Ma comunque È ancora più bello Se tu mi segui su Instagram Perché appunto Pubblico un casino di storie Davvero tanto Eh, sì Sto perdendo tempo Scusami Eh Eh, ci vediamo Sulle storie di Instagram Ci conto Questo non è editing Mi sono abbassato davvero io Ciao a tutti Al prossimo episodio